Sono 11 i progetti vincitori dei bandi disposti dal Comune di Piacenza per i contributi alle scuole e al terzo settore nell'anno scolastico 2018-2019. L'ammontare complessivo è di 276 mila euro. I progetti includono il contrasto al disagio giovanile e al bullismo, laboratori di lingua italiana per minori stranieri, mediazione interculturale nei contesti scolastici, sportelli di ascolto e di dialogo, percorsi di cittadinanza attiva ed educazione ai corretti stili di vita. Il Comune di Piacenza manifesta ancora una volta di voler essere vicino alle famiglie e ai nostri piccoli cittadini proprio su temi importanti come sono quelli della formazione a formazione a tutto tondo. È necessario mettere insieme le risorse e farlo in modo tale da poter dare risorse, poter dare strumenti e poter concretizzare una serie di progetti che oggi devono far fronte appunto delle necessità urgenti. Alla conferenza di presentazione dei progetti sono intervenuti i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.